Ma intanto sabato è una partita fondamentale, ma è una partita fondamentale delle tre, perché in una settimana si gioca tre partite tutte e tre importanti. Le partite, come tutti si sa, non sono mai facili e chiaramente andiamo a incontrare sabato e domenica prossima la seconda le sonde in classifica. Quindi è una settimana fondamentale per le nostre ambizioni, quindi noi si deve preparare questa settimana con tutte, andando a vedere anche proprio i risvolti minimi di quello che può essere le partite e bisogna andare a giocharsela. L'obiettivo di Finini è quello di fare come ha fatto finora, di migliorare la prestazione domenica per domenica. L'obiettivo si dice aprile.